Oggi siamo qui a fare un annuncio, perché oggi, 6 gennaio 2024, è ufficialmente morto il calcio. Oggi si decreta una squadra che dovrà vincere per forza e mai nessuno potrà lottare per andare oltre il secondo posto e da oggi in avanti non c'è più nessun motivo di guardare questo campionato.